Signori miei, benvenuti, bentornati, microfonino su Battletoads Episodio 3? 4? Non lo so, spero che si veda meglio dell'ultima volta, spero che si senta meglio Anche se devo dire che la registrazione ho visto che è molto fedele alla trama Eccola qua Giusto Non lo so, se ne ho scelto Non lo so, se ne ho scelto Tadudel Gli ha veramente fermato il pugno con le dita Bene, bene, guarda, stai a prendere quando si spegne la dita Ok, Queen, hai esattamente 10 secondi per scelterci Sono stato preso in questo parco da alieni celestici, nammati Topian che trova i miei poteri e ha scoperto un grande guardia per bloccare il mio escapamento Ho segretamente usato la radiation per creare un carnival sentiente Per il mio padre, a cui mi ha messo il mio padre, a cui mi ha messo la guerra, a cui mi ha messo la guerra e anatomicamente corretto, per nominare un po' di più. Abbiamo avuto un planno di rinforzare il bosco e viaggiare il cosmo per l'autopiano, per farciare la galaxia e restaurare la potenza che ha perduto 26 anni, e poi, per favore, prendere quella nascita di gioia e banzo? Perché lei prenderà la banzo? La Queen è stata qui per 26 anni, è stata qui per 26 anni, sai cosa significa? Oh mio Dio, significa che non è conosciuta! Più più importanti, significa che i autopiano ci siamo in un banzo. Chi si importa? La Dark Queen è stata la nostra ticcetta per l'alba! Se non è conosciuta, non possiamo essere conosciuti! Eh, ha ragione il coso, Rash! E' troppo carino però, è proprio come il cartone animato! Sei sicuro? Sì, ragazzo, sono sicuro! Ok, dovremmo farlo, dovremmo buttarti nel cervello, oh Dio! Mi piace, te anche! Aspettate, possiamo unire! Scusate, scusami, questo è un toad? Io so che la nostra storia è complicata. Cioè, mi hai sentito in spazio? E' 26 anni che è qua dentro lei! Eh, questi Topian, sono famosi? Infamous! Sono in! Sono in! Grazie per la ticcetta, madonna! Ma, eh, possiamo battere i Topian senza te! Wow! Mi sembra che... Si parte! Tochambo! Tochambo! Angolo del mo... Cosa? Tochambo! Sì, giù! Sì! Quale è il problema? Tochambo! 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 ma sono io lo esce? quindi? boh, cosa vuol dire? pareggio tra noi ho vinto di nuovo meno male va chi è sta roba gigante? guardate che bello in basso a destra i caricamenti straordinari sono troppo simpatici sti cosini speriamo c'è un bug come sempre è un giochino un po' buggato nel senso che che let x premuto easy 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 mi prende sempre questo qua tu 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 ok tu 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 ok via easy easy subito subito lui è fortissimo ok ok oh subito oh eh due era impossibile dai oh 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 easy easy mostro mostro ok ok sono full vita più faticosi quello che sembra easy 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 quanti? tre to 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 anna jo anna jo bye no 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 eh 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 dove lo sapevo mi ha preso ok mostro oh 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 shh devo mettere assolutamente il timer se no facciamo puntate da sette anni continua continuiamo a bomba 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 forse ci sarà un piccolo taglio un piccolo taglio stai calma tu sei una queen tu sei nonflappabile suck my freaking butt you backstabbing punks chuck my dump truck you stinky wimps beep beep garbage butt backing ah i hate the battle toes dollar che twist stai calma prima ho sentito che tu scremmo che stai calma cosa no ho parlato dei toad come tu ma toad stai calma stai calma sono video straordinarie sono video straordinarie vanno troppo ride poveraccio grande torturing 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 forgive mi forgive più di 400 lacce vedi cosa ho fatto lì ho fatto 4 mi piace ripetelo si e senti questo punta nel tuo nightmarie si ripetelo ripetelo nightmare scrivetelo pardon mia interruzione dai su no di nuovo il tostapane batte lo strumento che batte la marionetta che batte il tostapane tostapane io sono quello a destra non capisco se è tipo un caricamento o una roba fatta apposta la Ok 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 Medaglioni del rispetto, interessante È morto Ma è morto secondo me Secondo me è morto Secondo me è morto La boss fight è stata molto facile Molto colorata, molto divertente Speriamo non si blocchi Come è appena successo Sentite Non capisco perché